Irina Shayk su Instagram, le foto di intimissimi fanno il boom di like Ha partorito da pochissimo, ma Irina Shayk è già tornata a posare per i più importanti brand di moda, tra cui intimissimi In lingerie per intimissimi Mentre molte donne iniziano a lottare con diete, sport e buccia d'arancia, c'è chi come Irina Shayk, poco dopo il parto, già è pronta per mettersi in lingerie e posare per intimissimi La modella è stesa su un divano e copre il bellissimo volto con un braccio, lasciando scoperti gli incredibili occhi azzurri che guardano in modo sensuale verso l'obiettivo, mentre mostra i nuovi capi pensati dal marchio di moda Canottiera di seta bianca intarsiata di pizzo, e slip dello stesso colore, Irina Shayk dimostra che non bisogna esagerare per essere sexy e al top, ma che anche la semplicità ha un fascine intramontabile La compagna di Bradley Cooper torna quindi a posare per intimissimi, brand che l'ha lanciata qualche anno fa e che l'ha resa famosa agli occhi del grande pubblico, ne ha fatta di strada da quando viveva in povertà in Russia insieme alla madre e alla sorella Tanto che oggi Irina Shayk è una delle supermodelle più belle e richieste nel mondo Il passato con Cristiano Ronaldo Dal 2010 al 2015 Irina Shayk è stata fidanzata con Cristiano Ronaldo e nessuno avrebbe mai pensato che i due si sarebbero lasciati La supermodella e il calciatore formavano quella che in molti definivano la coppia perfetta e si dichiaravano perdutamente innamorati a ogni intervista La realtà però, era ben altra, Ronaldo, nonostante stesse con una delle modelle più belle del mondo, avrebbe tradito la sua fidanzata con decine e decine di altre donne E Irina lo avrebbe scoperto nel modo più antico del mondo, leggendo i messaggi sul suo cellulare Ovviamente una top model del calibro di Irina Shayk poteva sopportare un affronto del genere. No, e quindi ha deciso di lasciare una volta per tutte il calciatore, svelando poi in seguito che la relazione era tutt'altro che rosea e serena Incredibile ma vero, Irina Shayk accanto a Ronaldo si sentiva brutta, soprattutto perché lui la voleva sempre al top e mai con un capello fuori posto La ruota però gira per tutti, infatti già poco dopo la fine della relazione con Cristiano Ronaldo, Irina Shayk ha iniziato a frequentare quello che sarebbe diventato il futuro padre di sua figlia Stiamo parlando dell'attore sex symbol Bradley Cooper, protagonista di American Sniper e sogno proibito di milioni di persone in tutto il mondo I due hanno iniziato a vedersi già nel 2015, mantenendo la loro relazione ben lontana dai riflettori Solo un anno dopo hanno pubblicato la loro prima foto insieme, tra l'altro con le teste tagliate e Un anno dopo è arrivata la piccola Lea Deiseine, prima figlia della coppia, anche la gravidanza è stata vissuta in totale intimità, e si è scoperto che Irina era incinta solo quando ha sfilato al fashion show di Victoria's Secret con il pancione bene in evidenza Nemmeno un mese dopo il parto, aveva già riacquistato la sua splendida forma fisica Nemmeno un mese dopo Nemmeno un mese dopo